Paolo Pilotto, che emozione dà a indossare la fascia? Beh, diciamo l'emozione di tutte le persone che amano le istituzioni. Ci si sente nel momento in cui si ha addosso l'insegna dell'istituzione la responsabilità dei cittadini che rappresenti, e questo credo sia una cosa molto bella, da un lato. Dall'altra parte non le nascondo che insieme alla soddisfazione c'è il senso di responsabilità, che non si trasforma in angoscia, ma il senso di responsabilità che è molto forte. Tenendo conto che questa è una città viva, forte, piena di iniziative, ma che è anche una città con tante difficoltà, con tante persone singole e con tante situazioni che meritano grandi attenzioni. E a proposito di difficoltà, quali saranno i primi provvedimenti che l'Aggiunta Pilotto, l'Amministrazione Pilotto, prenderà? Qui sono costretto a ripetermi rispetto alle cose dette in queste ultime 48 ore. Certamente avviare il lavoro di riduzione delle liste di attesa negli asini nido, attenzione ai bambini, alla loro crescita e attenzione in simultanea alle famiglie, ai loro tempi di vita, importantissimo. Sicuramente un lavoro per conniciare a connettere appunto le ciclabili della città, sicuramente un lavoro di correzione, di integrazione, di verifica, di rettifica delle pulizie, delle strade, della raccolta dei rifiuti, che ci ha dato qualche difficoltà in questo periodo. Sicuramente un'attenzione nei confronti dell'abitare, non possiamo permetterci che i nostri giovani scappino da Monza perché non riescono ad abitare e quindi qualche ragionamento da fare da subito anche con le associazioni dei proprietari delle case piuttosto che i costruttori in merito alla edilizia convenzionata ed altra e un occhio di riguardo alle aree di smesse pubbliche su cui dobbiamo cominciare a intervenire. Quando presenterà la Giunta? Spero ragionevolmente nell'arco di una decina di giorni. Più Inter o più Monza? Sappiamo che lei è il tifoso dell'Inter. Come cittadino monzese, l'ho detto e l'ho ripetuto, il tifo si fa per le squadre della propria città. Il Monza in Serie A calcio, la Serie A del volley e la futura, speriamo, Serie B, Serie A nel basket, ci arriveremo. Come cittadino privato, quando l'Inter vince non mi dispiace. Quindi Monza Inter sarà... Sarà un bel problema, ma comunque ho l'impressione che come primo cittadino so che cosa devo tifare.